oi mario dario dimmi ti chiedo una cosa giusto per curiosità sì 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 questa cosa di dire puzzo non sarà un pochino sfuggita di mano hai parlato di underground puzzo e di punto siderale in questa in questa conversazione non è che stiamo un pochino andando fuori rotta non è che stiamo un po esagerando con sto puzzo del cazzo allora mario senti dico la verità poi libero di accettarla o meno il puzzo fa parte di noi risultarlo non abbracciarlo non ha senso secondo me il puzzo fa parte di noi dario allora io ti spiego questa cosa dopo questo puzzo a parte di noi tu mancavi streaming da due settimane hai deciso di rimanare una settimana hai deciso di impostare questa prima streaming dopo tanto tempo per sfasciare a o sembri un ubriaco in villeggiatura stai ca no no bro non parlo mentre tu dici ucci la gamba stai riflettendo stai ma l'asta l'asta la gamba l'asta dell'occhiale scusami io non ho mai portato gli occhiali quindi non lo so mi stai mi stai facendo se ver veramente in nervosire puzzo siderale in poi non ci ho più visto però ti volevo ti volevo confessare una mia preoccupazione non è che passare mi sta chiamando marco e rispondi e no rispondi invitalo in chiamata forse non lo sai ma io pensavo 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 no credo che lo sappia così a nasa aspetta mi ricordo mai se eccolo qua marco se stai venendo per fare casino io non sono molto d'accordo è ho pronto pronto marco disattiva quella cazzo di live mentre la guardi dopo che sia andata in chiamata quante cazzo di volte te lo devo dire no non l'ho fatto non l'ho fatto non l'hai fatto in due non fanno un cervello dove sei marcone versi fatto un attimo che attivo la cam che qua c'è troppo freddo non non funziona vai tranquillo come fai fai bene grazie ok grazie voi come come state ciao no no non ci sono i ghiacci del tela della tailandia nella volta freddo a longolinos mamma mia che bella longolinos tra l'altro sembra una cosa italiana con una s finale solita marco di ora è un quarto fa e mi detto che se avessi avuto bisogno saresti stato a casa a san donato no vabbè ho fatto venire la l'inserviente la schiava balde prendi mi pare lotto lotto nero e ti porta direttamente a bella longolinos per forza bello schifo ragazzi eccolo la organizzati alla perfezione per sparare delle puttanate per sparare delle bu no ragazzi ma da dario marca ma calmati ma veramente ti fa così tanto ridere che cosa siete deficienti siete completamente rincoglioniti e questa strana e quando la mangio mi viene il fitticchio io no no bro non ho capito stai dicendo per la noce pire la noce pire l'eccitazione quando va con lady boys io non sono di quel genere ho mangiato il mango marco credo che il mango però sia un frutto abbastanza comune anche qua è la serenza bella è la globalizzazione fortunatamente ha reso la quasi in italiana in quel modo la però viene da qui viene da qui stiamo esagerando è già da quando hai chiamato thailandia thai che stavate facendo boys abbiamo fatto una puntata una puntata stemporanea di talent scout marco perché dario è tornato in live streaming faccio quattro giorni di parentesi live poi dopo a inizio anno introducono palinzienza quindi mi sto ascialando come dice marione per quattro giorni e poi e poi e poi si ripartono chi avete intervistato è due dei più grandi talenti di twitch del mondo penso no 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 stavolta miniera d'oro li sta sopravvalutando ma comunque non sono stati per niente sgradevoli c'è assolutamente da dirlo marco puoi metterti la cam normale senza ghiacciai per favore che mi dai sui nervi ma gli piace far vedere thai ma scusa ma che te frega se mai vorrei venire a trovarmi qui mario ti porto qui all'igloo e ci faccio un bel bagno non so se ti piace l'acqua fredda è super uno sfondo di discord cosa questo si vede che uno sfondo di discord certo però ti ricordi windows xp aveva quegli sfondi esistono tu puoi andarci in quei posti ma tu sei a casa tua nel tuo buco di merda dove vivi attualmente no 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 e no va bene dai passiamo al prossimo argomento sei mai stato a tai per forza e quello mi fa il dito medio e sarei io il più piccolo in questa stanza sarei io il più piccolo io io marco appena posso venga a trovarti è che voglio vedere giulenco voglio fare un giro tra le palme di poti dario che se ne va in thailandia riporto al tempio nargen margennino mamma mia che bellezza contest di parole inventate il tempio nargenni dai di ne di ne di un'altra margennino ci sono le state di lupen ci sono le state di lupen e lo vennero come se fosse un dio assoluto allora che cazzo di porta fare se già visto ho visto le foto ma vederlo reale è impossibile due facciamo da ciceroni a mario ma è un culo io me ne sto per cazzi miei ma poi questo posto non esiste nemmeno no esiste o capace che mi porti in un posto e mi prendete a schiaffi dentro un sacco quando è che guarda come far ridere a tutti e due quindi perché il caso se vai a trovare david forse ma non no ma nemmeno david puoi stare tranquillo proprio comunque volevo ringraziare pubblicamente daniele sdrumox che nonostante sia tanto geloso delle sue cose per anche perché ha paura che gli si rompano in vie tragiche mi ha proprio fatto con cosa hai fatto con shifty mine nulla io hanno parlato un'altra cosa scusami niente mario niente stavo parlando della da stavo parlando della dammi batteri che la mia è da daniele mi ha prestato la sua che poi mario mi ha detto flips che non sei d'accordo sul caricare quel momento di live o assolutamente d'accordo dico la verità mario anche io non è che sia proprio per la quale di quello si chiama marco comunque io ma perché mi stanno spammando una coppasta mario ti sburo il cane non so chi cazzo non vi permette da sburarmi alcun cane cioè non lo stanno compastando a me vabbè vivano fra un pochino ragazzi ma marco spesso il mio dispiacere per marcos no no bro lo stavi prendendo per il culo io ho avuto pietà non è quindi no 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 è venuto in live leccando di baffi quando hai visto che c'era shifty mine in casa dai non mi rompere le palle posso dire che comunque far ridere sì sì ad alcuni non voglio fare ridere per queste cose non lo pubblico non lo noi chiedo di non farlo pubblicare cioè però capisco che fa ridere un sacco di persone anzi poltergeist non mi fa ridere non mi fa ridere stai per anni con una persona poi la vedi in casa qua non mi piace non è tanto quella persona e minchia daniele dai sì 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 daniele dai assolutamente ma ci sono anche altre cose a me non fa ridere anzi fossi stato in lui mi sarei dispiaciuto e quindi non voglio non mi piacciono i pettegolezzi non mi piace il drama non mi piace che la gente diventa più rincoglionita perché la diverte questa cosa diverte ovviamente perché c'è l'inside lore di danni e di shifty mine con tutte quelle cose là ma c'è anche un tipo che magari ci poteva rimanere male a vedere tutto questo spettacolo costruito per e avrebbe fatto ridere esattamente per quello almeno tu si è entrato con ben nominando marcus cron alla prima frase fosse stata una cosa per danni e per shifty mine semplicemente avrei dato a senso ma non con te che enti dicendo e marcus cron minchia soffremi male così non ho fatto se ok ora di che parliamo vabbè se vuoi possiamo parlare di meditario che si è fatto una settimana con un accesso dentale non sapeva parlare fino a un giorno afte 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 no afte no non è stata la settimana all'inferno non si è riposato in pratica cosa è successo cosa è successo è operato e del giudizio ero pieno di afte e volevo morire merda o sono stata messina a marco come messina natale di quest'anno ma mi ha detto che c'è caldo sì sì che cazzo con la faccia niente c'è caldo sì che cosa ho appena detto mario niente bro sono io traumatizzato tipo vietnam avere per un meme perché la gente mi prende in giro perché una volta ero con dario che mi sono tirato fuori dal giacchetto detto sento gaudu e questa cosa è rimasta un fumo mi vince se finalmente ho capito tutto broma è terribile ma lui non lo fa che prende le parole in siciliano far ride no no tu prendi le mie io parlo io parlo spontaneo meme non ho meme come faccia di te quel sento caudo sarebbe passato inosservato tu marco hai sentito sento caudo su trezzo su queste cose qua sì mi arrivava in chat e viene da sta puttanata che sentivo caldo con la giacchetta e dario si è messo a prendermi in giro perché ho detto sento caudo beh ma adesso almeno messina c'è frisco è una discussione che ti puoi fare da solo per quanto mi riguarda cosa no perché 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 sì perché sì c'è frischi frisco messina frisco qualche adesso infatti mi metto la giacca però basta che semplicemente un'azione dove mi metto una giacca e non mi rompete le palle mamma mia mario stai a pezzi eh infatti super aggressivo no io sto a pezzi sto benissimo va bene va bene come è messina come l'hai ritrovata da quante non ci tornavi sei anni come sempre non ci tornavo da sette anni velocissima questa domanda e sono contento di aver scelto di stare tre giorni perché quattro già mi avrebbero stufato e jeff era morto eh no lo sento ogni tanto mi chiama però a un certo punto basta cioè sono stato quattro giorni con lui parlava a disco rotto soltanto che è brutto stare qua che è brutto stare qua ma veramente a un certo punto mi sono esaurito perché ci perché si lamentava porca troia dire una cosa tu sei molto rispetto a me jeff molto più diplomatico però io quando ritornai la prima volta a messina dopo che ero partito che un po come quello che è successo a jeff merda non potevo respirare neanche quell'aria solamente ora un me la godo come fai tu eh sì ormai tanto non gli nominare me la cosa non sono bevo lo sapeva quinta chiamata numero ma perché ma perché pensate davvero che se qualcuno mi chiama dei me la godo a fare le sdrogocorse adesso me ne vado scappo e vi lascio certo c'è veramente qualcuno che pensa che io sarei capaci di una cosa del genere io sicuro di cosa no dario tu no lo sai benissimo che non lo farei lo sai benissimo ma che è questa che poi finta e finta gelosia questa è finta gelosia di che si parla dio che accetto di fare una cosa con gianmarco blur e lui che dice oramai a me chiami per il pavimento a lui lo chiami per le sdrogocorse non è vero nemmeno dai tra l'altro al per il pavimento ho chiesto a mio padre a dario a marco quindi magari forse i miei più cari affetti chiedo del pavimento a marco chiesto del pavimento certo ok marco ti ho chiesto del pavimento sì no no penso che sia il pavimento vecchio pazzo del cazzo ma poi non è un'idea saggia secondo me chiedere a marco il pavimento marco il pavimento per l'insonorizzazione ma sei completamente pazzo te lo sei già dimenticato insonorizzazione no no non ci parlo con te lo stai facendo apposta ma che succede io ho chiesto a daniele a marco si sono guardati negli occhi pensa se crolla si mettevano a fare stato ma pensa se crolla un certo punto ho fatto magari è una questione mia psicologica che invece che mi crolli il pavimento fisicamente ho paura che mentalmente proprio psicologicamente mi crolli il pavimento mi crolli il terreno da sotto i piedi forse è più profonda la paura che ho piuttosto che proprio la cosa fisica adesso che va così bene guardati hanno preso per il culo ma perché il culo ma perché alla fine veramente non succederà nulla sento frisco c'è frisco frisco mario mario non mi sento nemmeno quindi se volete chiedermi scusa fate così altrimenti non lo capisco ma scusa di cosa ora mario ora apri box io cosa apri yugioh figo è uscito è un nuovo è rarity collection ci sono delle nuove rarità per vedere come sono fatte io non vedo l'ora che esca magic fan of fantasy quello sì che me lo compro ma già è vero prossimo anno mi sa se il 2024 che fai mario mario mi chiediate scusa ma io vado vado a sbustare ciao a tutti ragazzi dove sta andando che non sento un abbraccione dove vai a sbustare ciao buon sbusto ciao dario ciao 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 che cazzo ridi